Ok, torniamo con un Robby 6, facciamo Creed, il nuovo film fantastico sulla box, sul pugilato, e quindi andiamo a play e guardiamocelo subito. Com'è? Gran nero, già non si vede niente. Dai, oh, ci accende la luce! Oh, vai! Tutto incazzato, deve essere un film romagnolo, ha il Creed, un film sull'automotivazione personale. Bella nero, dai! Putta! La peppa con il muro, dai! Dai, tattensi in fuoco, fuoco su, si in fuoco! In fuoco, dai! Tattene con la fiamma, lì! Cazzo! Vai, vai, vai! A fare la pipì! Vai, vai! A sistemare l'impianto elettrico! Mettete nel brosso! Cacca moia! Cos'è questa roba qui, con il suo filo delico? Volete imitare i Rocky? Santo Dio, di Rocky c'è solo uno! È in inglese, capisco un cazzo? La fenomeno, tu credici, tu Creed! Non ho nulla a do con me. Non ho nulla a do con me, non ho nulla a do con me. Non ho nulla a do con me, non ho nulla a do con me. Non ho nulla a do con me. Ha urlato! Grazie a tutti.